Allora, siamo arrivati al dopo elezione e non resta che fare i complimenti a Ginelli, è stato veramente bravo, è una persona che farà del bene a D'Arezzo, io l'ho votato ma con questo ho una grande stima di quest'uomo. Però devo dire che hai contribuito a farlo eleggere. No, hanno contribuito più i suoi compagni che io. Di solito le coalizioni con le quali ti schiarite la pigliano un culo. Sì, ma non vuol dire, basta un po' di vaselline e via, non cazzo vuol dire. Ma senti, sono arrivate molte mail, molti messaggi che tu non hai letto, ma te ne dico una senza fare i nomi, un certo avvocato Stefano Arrighi ha detto, ma Brandini quante volte cambia la ciubba? Io non ho mai cambiato la ciubba, io sono un democritiano nato. E sono tutti gli altri che cambiano la ciubba. Io non ho mai cambiato ciubba, perché io sono ancora dentro di me un democritiano vero. Siccome qui democritiano non ci sono più, sono in mezzo a comunisti, comunisti sono in mezzo a fascisti e soltanto sopra, ciò nonostante Stefano deve essere estremamente orgoglioso. Si è votato Ghinnelli perché una parte della sinistra ha votato Ghinnelli, quindi c'è una certa emancipazione del voto. Il voto della sinistra ha votato Ghinnelli, ma che cazzo dici? E cazzo, l'8% che aveva meno, ha pensato a dire davvero. Allora non si vanno a leggere i voti, il bracciale non ha preso i voti dei suoi, non è che i suoi hanno votato Ghinnelli. Guarda, guarda che io noto, io se vuoi, guarda che, ma che cazzo dici? Ma molti della sinistra, molti della sinistra hanno votato bene. Ma che dici? No, non ho votato. Molti della sinistra quando hanno visto che te avevi messo in lista la tua figli ora, l'hanno votato adesso. L'hanno fatto bene, ma tanto a me non me ne frega niente, io mangio uguale, bevo uguale, non ho mai votato la lilla dalla politica. Vuoi fare Arachiri? No, io non voglio fare, poi devo salutare due ragazzine che mi hanno fermato fuori, che sono di un complesso di anghiari, i quali hanno detto che siamo bravi. Un complesso di residenza? No, un complesso di, non lo so, di cori, di questa roba. Comunque, hanno detto, ci hanno salutato, hanno detto che siamo bravi e quindi queste due ragazzine... Squilibrate. No, belline, educate, eccetera, le saluto. Poi, che volevi dire, su di altri... Volevi dire che hai rotto i coglioni, si va via. A tutti, a tutti o a poco. A tutti, compreso me. Compreso te, ovvio. Vedi che ci si trova d'accordo.